Le maxibollette della Ruzzoreti, recapitate ai cittadini terramani in questi giorni, hanno innescato reazioni e proteste pesantissime. Le somme che l'azienda acquedottistica richiede, cifre parecchio alte a causa della mancata lettura dei contatori, si riferiscono ad un conguaglio sui consumi a partire dal 2018. I comitati di quartiere, le associazioni a difesa dei consumatori, alcuni movimenti cittadini, sono immediatamente intervenuti per ricordare alla Ruzzoreti che intanto è obbligata a leggere i contatori ogni anno e che il 2018 è per legge prescritto. L'azienda replica che in effetti è vero che le somme riferite al 2018 non vanno pagate, ma è il cittadino che deve eccepire la prescrizione. Ma allora perché non spiegarlo nelle maxibollette inviate? La Ruzzo notifica una prescrizione, cioè le somme del 2018 che sono prescritte. E' stata giusta questa procedura? Innanzitutto doveva fatturare, perché se ha fatturato nel 2021, non ha fatturato nel 2018, è già fuori dal regolamento che prevede una fatturazione che ha una cadenza annuale, che può avere delle letture stimate, ma in qualsiasi caso la legge prevede che ci deve essere una fattura annuale con una lettura effettiva annuale. Quindi questo è il primo aspetto. Chiaramente da questo punto di vista la Ruzzo non doveva tenersi a quello che prevede la legge, quindi doveva fare letture e doveva fare fatture annuali. Perché tra l'altro il fatto che c'è la prescrizione, che questa prescrizione porta un danno, soprattutto a Ruzzo, perché queste somme non le incasserà. Se doveva mettere in fattura, siccome deve seguire questi cicli di fatturazione, avrebbe avuto un buco, quindi la fatturazione doveva essere fatta. È giusto però, come stavamo parlando prima, che magari all'interno della fattura veniva segnalato che era possibile fare ed eccepire la prescrizione. All'interno di questa fattura, dove viene immessa la cifra del 2018, non viene segnalato però che il cittadino può chiedere la prescrizione. E perché hanno fatto questo? Per esempio, altre strutture del settore energetico hanno introdotto nelle proprie fatturazioni un modulo dove il cittadino poteva eccepire la prescrizione. Quindi è una prassi, diciamo, per quanto riguarda il settore energetico, l'introduzione in questa lettera dove è possibile chiedere la prescrizione. Intanto è prevista in città una manifestazione in Piazza Orsini per contestare la gestione dell'acqua in provincia di Teramo. L'iniziativa dal titolo Siamo con l'acqua alla gola, blocchiamo le bollette pazze del ruzzo è stata organizzata dalla Casa del Popolo. Inoltre ieri, proprio davanti alla sede dell'azienda acquedottistica di Via Dati è compasso uno striscione con su scritto Sciacalli. I cittadini si sentono un po' imbrogliati però, eh? Assolutamente sì, la sensazione chiaramente è questa. La sensazione diffusa è questa, ma non è di questo momento, ma viene da lontano, insomma.